Quando si fa informazione libera non si lega spazio a nessuno, tantomeno ci si fa imporre una scaletta di temi, ospiti, giudizi e preferenze. Crediamo che il ruolo di Antenna 3, ricoperto e guadagnato in oltre 40 anni di storia, non possa essere in alcuna maniera svilito, deriso, ma soprattutto strattonato per qualsivoglia favoritismo. Sempre ferma la libertà di opinione e critica da parte dei nostri telespettatori, la politica però dovrebbe ricordare bene come leader si nasce e non si diventa per piagerie elettorali. Il pluralismo dell'informazione, la varietà di ospiti, temi e approfondimenti non può essere in alcuna maniera intaccato per imposizione di chi copre ruoli di amministratore. Ne andrebbe della stima da parte dei nostri telespettatori, unico e vero metro di giudizio per noi valido. E a ulteriore significato di quanto la nostra serietà sia posta al cospetto di chi ci segue e non filtrata da noi, ecco le parole di critica del sindaco di Venezia. Credo che su questo lei deve andare a intervistare l'Elisabetta Spizza, il commissario del Mose, che mi sembra una persona che si sta adoperando bene. Poi dovete andare a chiedere a Andrea Martella che è riuscito a scipparci tutte le autorità per la laguna perché ha fatto sta cosa quando per anni ha pontificato il contrario. Chiedete a Ferrazzi che so che è sempre in onda in diretta su Antena 3 e che spesso offende anche il sindaco, intanto che aggiusta i tubi il sindaco e lui invece prende 10 mila euro al mese a fare il parlamentare e non si capisce a che cosa servono per la città questi. Ci hanno scippato tutti quanti i nostri poteri, le nostre autonomie. Sono proprio il partito contro l'autonomia perché quando lo vedete da Antena 3 lo vedete in faccia questa gente qua, ricordatevi, il Veneto ha votato per l'autonomia e questi sono al contrario. Vanno a Roma votati da gente qua che in buona fede è convinta che questi rispettino quello che dicono e poi vanno lì e fanno quello che vogliono. Sono bei soldi, mi rendo conto che la politica è un mestiere per questi, io sono il contrario, sono proprio un'altra parte. Sul Mose invece io mi sono adoperato per andarci, per ringraziare i lavoratori e stare al loro fianco. Devo dire che qualche volta ho usato toni anche accesi, parlo ancora quando la dottoressa Spizza non era ancora stata nominata come commissario, per cui hanno lavorato i commissari del Consorzio di Venezia Nuova, c'erano le imprese, c'erano i lavoratori, gli ingegneri. Quando c'erano, vi ricordate quelli con il no Mose, sono spariti tutti. Sono spariti quelli che c'erano col turismo, ci sono più, sono spariti e intanto distruggevano il futuro. I cittadini hanno visto lungo, i cittadini, gli stessi operai, le persone che lavorano non credono più a queste fandonie, non ci credono più a televisioni, a quelli che sono sempre in televisione, che raccontano sempre queste cose. Anche gli stessi proprietari delle televisioni che capiamo, capiamo che diano spazio perché Andrea Martella è il delegato del governo per l'editoria. Capiamo gli spazi che hanno. Noi purtroppo rappresentiamo soltanto i cittadini, però siamo tenaci.